Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni ovvero non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto avete quanto state per ascoltare io vi benedica e la santa vergine che protegge carissimi amici l'audenturo jesus et maria bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di giuda questa è la numero 30 e questa sera faremo uno step ulteriore nel cammino verso l'approfondimento di questa inquietante ma salutare fiducia siamo più o meno ad occhi e croce poco meno di poco più forse di un quinto dell'opera quindi mi sa che questo ciclo di catechesi sarà un record forse diremo a 100 oltre 100 puntate però questo è che ci fa comprendere anche dato che non dobbiamo mai dimenticare che stiamo facendo questo ciclo di catechesi perché uno dei motivi formulati da gesù ovviamente per chi crede a questa cosa che lo ha mosso a dare l'opera sul vangelo la grande opera sul vangelo la mistica italiana maria val torta è stato proprio quello di conoscere e approfondire il mistero di quest'uomo che è giuda perché giuda purtroppo non è morto con la morte di giuda escariota ma continua a vivere in varie tipologie diciamo così di personalità e quindi anche in varie membra attualmente facenti parte del del corpo mistico di cristo è uno specchio in cui tutti senza paura dobbiamo avere il coraggio di guardarci se dovessimo vedere ahimè dei tratti di somiglianza intervenire perché non ci sono nella nostra santa fede cattolica situazioni ineluttabili o destini immutabili tutto dipende sempre dalla nostra libertà che purtroppo e questo è un punto in cui dovremo sempre soffermare l'attenzione e anche un po di sana preoccupazione questo uomo a libertà ha scelto di può esercitarla mare o non esercitarla proprio in certi casi fino alla fine divenendo la causa della sua rovina fatto questo breve preambolo veniamo all'episodio di oggi che si intitola il suo rigore teologico e un futuro tradimento eccoci di nuovo nella cucina di pietro la cena deve essere stata abbondante perché i piatti con i resti di pesce di carne di formaggi di frutta secche o perlomeno avvizzite di focacce di miele si ammucchiano su una specie di credenza che ricorda un poco le nostre madie toscane e anfore con calici sono ancora sparsi sulla tavola la moglie di pietro deve aver fatto miracoli per far contento il marito e deve aver lavorato tutta la giornata ora stanca ma contenta sta nel suo angolino e ascolta ciò che dice il suo uomo e ciò che dicono gli altri lo guarda il suo simone che per lei deve essere un grande uomo anche se un poco esigente e quando lo sente parlare con parole nuove su quella bocca che prima parlava solo di barche di reti di pesce di denaro ha persino uno sbattimento di palpebre come fosse abbagliata da troppa luce pietro sia per la gioia di avere alla sua tavola gesù sia per la gioia dell'abbondante pasto consumato è proprio in vena questa sera e si rivela in lui il futuro pietro che predica alle folle non so quale osservazione di un compagno abbia originato la risposta scultorea di pietro che dice avverrà loro come fondatori della torre di babele la loro stessa superbia provocherà il crollo delle loro teorie e rimarranno schiacciati al fratello obietta andrea ma dio e misericordia impedirà il crollo per dare loro tempo di ravvedersi non te lo pensare ribatte pietro a coronamento della loro superbia metteranno calunnia e persecuzione o io già me lo sento persecuzioni su noi per disperderci come testimoni odiosi e posto che attaccheranno con insidia la verità dio farà le vendette ed essi periranno avremo noi forza di resistenza chiede tommaso ecco per me non l'avrei ma fido in lui e pietro accenna il maestro che ascolta e tace stando un poco a capochino come per tenere nascosto il suo viso espressivo io penso che dio non ci darà prove superiori alle nostre forze dice matteo o perlomeno aumenterà le forze in proporzione delle prove termina giacomo dal feo egli lo fa già io ero ricco e potente se dio non mi avesse voluto conservare per un suo fine io sarei perito nella disperazione quando fui perseguitato e lebroso ovviamente chi è intervenuto è simone lo zenota avrei infierito su me stesso invece nel mio crollo completo sceso una ricchezza nuova che non avevo mai posseduta prima la ricchezza di una persuasione dio c'è prima dio sì ero credente ero un fedele israelita ma era una fede di formalismo e mi pareva che prima della stessa fosse sempre inferiore alle mie virtù mi permettevo di discutere con dio perché mi sentivo ancora qualcosa sulla terra simon pietro ha ragione io pure costruivo una torre di babele con le auto lodi e le soddisfazioni del mio io quando tutto mi crollò addosso e fui un verme schiacciato dal peso di tutto questo inutile umano allora non discussi più con dio ma con me stesso con il mio pazzo me stesso e finì di demolirlo e più lo facevo facendo strada a ciò che penso a ciò che io penso sia il dio emanente sul nostro essere di terrestri ed ecco che raggiungeva una forza una ricchezza nuova la certezza che non ero solo e che dio vegliava sull'uomo vinto dall'uomo e dal male qui tocca fare una piccola sosta perché il discorso di simone lo zelote che vi capite perché non si vede dai vangeli ma pur non essendo tra i tre tra virgolette prediletti di gesù che erano pietro giacomo di zebedeo e giovanni di zebedeo giacomo maggiore anche conosciuto per intenderci quello che si vene da santiago di compostena in spagna però simone lo zelota era in grande stima nei confronti di gesù proprio per questa sua vicenda profonda e esistenziale di vita che aveva causato in lui un grande cambiamento vedete come parla con l'immagine di quelli che sono i praticanti non credenti sotto certi punti di oggi si chiamano così oppure per altri aspetti quelli che si che si gonfiano del titolo di cattolici adulti eccoli eccoli ero credente la messa la domenica ma una fede piena di formalisti mi pareva che il premio della stessa fosse sempre inferiore alle mie virtù eh certo io sentendo queste cose io ho detto tante volte ho fatto sempre solo il parroco quindi parlare con le persone sentire appunto i parrocchiani io ho un ministero un po' particolare perché ho da un lato sempre ho avuto le parrocchie come dire residenziali territoriali per farci capire i posti dove ti mandano e questo passa al convento quindi gli piace o non gli piace i parrocchiani più la seconda che era prima questo passa al convento e poi però ho anche come chi sta vedendo questo video in diretta o in differita per capire un altro diciamo così questo io non pensavo che accadesse ma è accaduto nella mia esistenza quindi un altro come dire un'altra parrocchia chiamiamola così una parrocchia spirituale evidentemente composta qui praticamente come dire di persone a cui non sono inviato e devi prenderlo e lasciare per questo passa al convento no ma che mi hanno cercato oppure mi hanno trovato e poi mi hanno scelto quindi è un contesto completamente differente tra quelli della prima categoria tu incontri appunto quelli che ti fanno fare diciamo l'esperienza come dire variegata no perché il resto sono quelli che mi conoscono attraverso questa questa diciamo così modalità sono fondamentalmente diciamo tra virgolette in linea di massima salvo la presenza di qualche eventuale infiltrato amici ecco però potrebbero trovarsi magari in qualcuna di queste situazioni no specialmente le sono un pochino acerbi ancora nella fede ma la gente tu ci parli sono tutti quanti virtuosi fanno tanto del bene non fanno male a nessuno eppure anzi ne hanno sempre sono sempre scontenti perché non gli viene riconosciuto perché Dio non è buono con loro a destra e a sinistra questo è proprio cioè di un parroco residenziale questa è ordinare amministrazione questo è è ovvio e questo è quello che sente dire dai praticanti cosiddetti non dai non praticanti perché quei non praticanti i non praticanti col parroco ci parlano proprio no? non solo non solo si permettono di discutere con Dio eh certo ce l'hanno col Padre Eterno ci stanno tante cose che non vanno bene il Padre Eterno purtroppo secondo questi non ne fa quasi una dritta ancora torre di Babele sentite che grande mi costruivo una torre di Babele con le autolodi oh questo è uno sport di queste categorie come dire di i praticanti non credenti e i cattolici adulti oh le autolodi se se le sparano a go go quanto ne voglio e le soddisfazioni del mio io ah carità anche se fanno qualche cosa come dire di oggettivamente utile per per il Signore per la Chiesa per la parrocchia ah ehi no no insomma no e lui racconta come nostro Signore lo ha amato smontandolo pezzo per pezzo e questo nostro Signore lo fa sempre attraverso la prostrazione l'umiliazione la demolizione abbiamo mai fatto una bella preghiera Signore demolisci il mio io che bella preghiera che sarebbe fa che io possa non soltanto sciacquarmi la bocca no tante volte pure lo dico citando Santa Caterina da Siena perché è la verità io sono nulla più il peccato questa è la verità d'accordo lo sono io e lo sei tu beh prima te lo metti in testa e meglio è se uno già riconosce questa come verità già qualcosa però questa bisogna proprio farla scendere dentro metabolizzarla quando uno mangia digerisce e diventa te stesso la demolizione dell'io o quando diventiamo così è allora diventiamo strumenti atti a fare qualcosa di veramente buono forse con l'aiuto della grazia per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime perdonatemi questa digressione ma mi sembrava importante perché ecco lo è interviene Giuda Iscariota dopo questo bellissimo discorso di Simone secondo te che pensi che pensi che sia Dio questo che tu hai detto il Dio immanente sul nostro essere di terrestri che vuoi dire non ti comprendo e mi pare un'eresia Dio a quello che conosciamo attraverso la legge e i profeti non ve ne è un altro dice un poco severo Giuda Iscariota risponde Simone se ci fosse Giovanni te lo direbbe meglio di me ma io te lo dico come so Dio a quello che conosciamo attraverso la legge e i profeti è vero ma in che lo conosciamo come bella domanda anche da fare a cattolici a praticanti non credenti a cattolici adulti no Giuda D'Arfeo scatta poco e male ancora lo conoscevano essi i profeti che ce l'hanno descritto noi ne abbiamo l'idea confusa che trapera dall'ingombro di tutta una catasta accumulata dalle sette sette ma come parli noi non abbiamo sette noi siamo i figli della legge tutti dice Iscariota sdegnato aggressivo i figli delle leggi non della legge è una lieve differenza dal singolare al plurale ma nella sua realtà ciò è che siamo figli di ciò che abbiamo creato e non più di ciò che Dio ci ha dato ribatte Giuda Taddeo per quanto mi riguarda standing ovation con queste quattro parole Giuda Taddeo San Giuda Taddeo grande santo peraltro uno di quelli dei casi molto difficili per cui San Giuda Taddeo farci un po' di preghiera un po' di novene è tempo ottimamente impiegato e molto sapiente per ottenere grazie dall'altissimo ha fatto ha fatto proprio il mugshot ha fatto proprio l'istantanea i figli delle leggi non della legge non siamo più siamo figli di ciò che abbiamo creato e non più di ciò che Dio ci ha dato essersi rifatti la fede è proprio immagine e somiglianze la fede fai da te e addirittura con i farisei che si hanno costruiti i famosi 613 precetti che se tu li osservi quelli che abbiamo detto noi e che come dire soffocano il decalo con tutta la battaglia santa battaglia che ha fatto nostro Signore per demolire e riportare in auge le dieci parole che quelle sono quelle che salvano quelle che ha dato Dio non quelle che ci aggiungono gli esseri umani con tutte le leggi 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 pur adesso si sta così leggi 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 e Iscariota adesso è entrato in polemica perché adesso lui è il paladino della giustizia le leggi sono nate dalla legge L maiuscola dice Iscariota e sentite il Taddeo anche le malattie nascono dal nostro corpo ma non mi vorrei dire che sono buone bella risposta ma lasciatemi sapere cosa è il dio immanente di Simone Zelote l'Iscariota che non può ribattere all'osservazione di Giuda d'Alfeo vedete l'ha messo a silenzio oggi si direbbe l'ha asfaltato cerca di ricondurre la questione al punto di partenza Simone Zelote dice e sentite questa è una persona veramente splendida con intelligenza lucida ai nostri sensi occorre sempre un termine per afferrare un'idea ognuno di noi parlo di noi credenti crede per forza di fede all'altissimo Signore e Creatore eterno in Dio che sta nel cielo ma anche ogni essere ha bisogno di più di questa nuda fede vergine incorporea atta e sufficiente agli angeli che vedono la mano Dio spiritualmente condividendo con lui la natura spirituale e avendo capacità di vedere Dio noi abbiamo bisogno di crearci una figura tra virgolette di Dio la quale figura fatta delle qualità essenziali che doniamo a Dio per dare un nome alla sua perfezione assoluta infinita più l'anima si concentra e più riesce a raggiungere l'esattezza della cognizione di Dio ecco ciò che io dico il Dio immanente io non sono un filosofo forse avrò applicato male la parola ma insomma per me il Dio immanente è il sentire il percepire Dio sul nostro spirito e sentirlo e percepirlo non più come idea astratta ma come reale presenza datrice di una fortezza e di una pace nuova quindi è quello che lui ha vissuto e attenzione anche se il termine l'immanentismo cioè il concepire Dio filosoficamente non come trascendente come Dio è ma come immanente cioè Dio che si confonde con il creato è un'eresia questo ma vedete che lui dice forse non lo so bene il termine lui non intende questo lui intende il passaggio da una idea astratta di Dio alla percezione reale non nel sentimentalismo esperienziale di oggi della sua presenza che avviene quando c'è una trasformazione profonda nell'esistenza che passa ordinariamente attraverso la croce l'essere messi con la bocca nella polvere ciò che fa passare la fede da un'idea astratta ad una realtà vissuta veramente alla luce della conoscenza di noi stessi e del nulla che siamo e in questa situazione io sono nulla più peccato non è più una semplice verità che l'intelletto dice vabbè filosoficamente è chiaro che questo è vero perché perché io non mi sono fatto da solo quindi sono stato creato quindi vengo da nulla e perché chi è così cretino di non vedere tutti quanti i peccati che facciamo dalla mattina alla sera anche piccoli speriamo quando uno vive in grazia ma innumerevoli imperfezioni negligenze e mancanze se uno si dovessi dire tutte potrebbe fare la confessione generale con le imperfezioni tranquillo tranquillo io devo aver messo in giro credo anche sul mio sito uno schema per l'esame di coscienza sulle imperfezioni che usa che usavano che la facciano più nei conventi e nei monasteri se uno mi mette davanti a quello può tranquillamente dire tutto ma sono due pagine di roba ho fatto la genuflessione in maniera distratta non ho chinato la testa durante il guardia al padre ho detto la parola inutile sono stato un pochino sgarbato mi sono interiormente risentito con una parola mi sono scocciato per una situazione di queste amici cari io vi auguro di non farne manco una però vuol dire che una persona sta a tassi di santità elevatissimi ok quindi razionalmente io sono nulla più il peccato me lo vedo davanti tutti i giorni ma quando questo proprio è carne della nostra carne ossa delle nostre ossa e è una sorta di status perpetuo con cui io mi sento davanti a Dio questo attira un autotreno di grazie veramente si si diventa capaci di operare grandi cose per e in nome dell'onipotente va bene ma insomma come lo sentivi quale differenza c'è fra il sentire per fede e sentire per rimanenza chiede un poco ironico l'iscariota Dio è sicurezza ragazzo interviene Pietro quando tu lo senti come dice Simone con quella parola che io non capisco la lettera ma della quale capisco lo spirito e credi che il nostro male è di capire solo la lettera e non lo spirito delle parole di Dio vuol dire che riesce ad afferrare non solo il concetto della maestà terribile ma della paternità dolcissima di Dio vuol dire che senti quando tutto il mondo ti giudicasse e condannasse con ingiustizia uno solo lui l'eterno che ti è padre che non ti giudica ma ti assolve e ti consola vuol dire vuol dire che senti che quando tutto il mondo ti odiasse tu sentiresti su te un amore più grande di tutto il mondo vuol dire che segregati in un carcere o in un deserto tu sentiresti sempre che uno ti parla e ti dice sii santo per essere come il padre tuo vuol dire che per l'amore vero a questo padre Dio che finalmente si arriva a sentire tale si accetta si opera si prende o si lascia senza misure umane pensando solo a rendere amore per amore a copiare il più possibile Dio nelle protazioni vedete qui già parla il Papa perché queste parole sono da Papa e voglia a Dio che tutti i papi parlassero sempre così e sentire dinanzi a un tale discorso così bello Giuda che vedete ecco qui esce fuori quello che è abbastanza in maniera abbastanza evidente e ribatte sei superbo copiare Dio ah non ti ha concesso giudica l'iscariota non è superbia l'amore porta all'ubbidienza copiare Dio mi sembra ancora una forma di obbidienza perché Dio dice di averci fatto a sua immagine e somiglianza replica Pietro ci ha fatto noi non dobbiamo andare più su ma sei un disgraziato se pensi così caro ragazzo tu dimentichi che noi siamo decaduti e che Dio ci vuole riportare a ciò che eravamo Gesù prende la parola e dice più ancora Pietro Giuda e voi tutti più ancora la perfezione la perfezione di Adamo era ancora suscettibile di aumentare mediante l'amore che lo avrebbe portato ad un'immagine sempre più esatta del suo creatore Adamo senza la macchia del peccato sarebbe stato un terzissimo specchio di Dio per questo io dico siate perfetti come perfetto il padre che ne c'è come il padre perciò come Dio Pietro ha detto molto bene e molto bene Simone vi prego ricordare le loro parole e applicarle alle vostre anime ecco qua la moglie di Pietro per poco sviene nella gioia di sentirlo dare così suo marito piange dentro il suo velo quieta e beata Pietro sembra gli venga un colpo apoplettico tanto diventa rosso resta muto per qualche momento e poi dice ebbene allora dammi il premio la parabola di stamane anche gli altri si uniscono a Pietro dicendo sì sì lo è promesso le parabole servono bene a far comprendere il paragone ma noi comprendiamo che esse hanno uno spirito su cui era il paragone perché parli in parabola in parabole Gesù dà loro la risposta che ci è nota dai Vangeli e poi spiega lo spirito della parabola del seminatore che egli ha detto quella mattina parlando alla folla dalla barca di Pietro a poca distanza dalla riva del lago avete inteso avete altro da chiedere no allora possiamo andare a prendere riposo per partire domani per Cafarnao devo andare ancora in un posto prima di cominciare il viaggio verso Gerusalemme per la Pasqua passeremo ancora per Arimatea chiede l'Iscariota non è sicuro a seconda dei puntini e puntini alla porta viene bussato violentemente ma chi può essere a quest'ora dice Pietro alzandosi per aprire per aprire si presenta Giovanni stravolto impolverato con chiari segni di pianto sul viso Gesù che si è alzato dice solo la madre dov'è tu qui gridano tutti ma che è accaduto e Giovanni venendo avanti andando a inginocchiarsi ai piedi del suo maestro tendendo le braccia come per avere soccorso dice la madre sta bene ma è impianto come me come tanti e ti prega di non venire seguendo il Giordano dalla parte nostra mi ha mandato indietro per questo perché perché Giovanni tuo cugino è stato preso in prigione e Giovanni piange mentre molto subbuglio si solleva tra i presenti Gesù impallidisce profondamente ma non si agita solamente dice alzati e racconta andavo giù con la madre e le donne anche Isacco e Timoneo erano con noi tre donne e tre uomini ho obbedito al tuo ordine di condurre Maria da Giovanni ah tu sapevi che era l'ultimo addio che doveva essere l'ultimo addio il temporale di giorni or sono ci ha fatto sostare di poche ore ma sono bastate perché Giovanni non potesse più vedere Maria noi siamo arrivati all'ora di sesto e lui era stato catturato al Gallicino ma dove ma come da chi nel suo antro tutti chiedono tutti vogliono sapere è stato tradito si è usato il tuo nome per tradirlo questo è un particolare che noi non conosciamo dai Evangeli audite audite che orrore ma chi è stato urlano tutti e Giovanni rabbrividendolo rabbrividendo dicendolo piano questo orrore che neppure l'aria dovrebbe udire confessa da un suo discepolo il subbuglio è al colmo chi maledice chi piange chi sbalordito resta in posa di stato Giovanni si attacca al collo di Gesù e grida io ho paura per te per te per te i santi hanno i traditori che per loro si vendono per loro e la paura dei grandi per sete di premio per per ubbidienza a Satana per mille mille cose oh Gesù 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 che dolore il mio primo maestro il mio Giovanni che mi ha dato te buono buono non mi accadrà nulla per ora ma poi ma poi ribate Giovanni mi guardo guardo questi ho paura di tutti anche di me chi sarà fra noi il tuo traditore ma sei pazzo urla Pietro e credi che non lo faremo a pezzi e l'iscariota interviene sentite oh pazzo per davvero io non lo sarò mai ma se mi sentissi indebolito al punto di poterlo diventare mi ucciderei meglio così che uccisore di Dio Gesù si libera dalla stretta di Giovanni sentite quello che ha detto e scuote rudemente l'iscariota dicendo non bestemmiare nulla ti potrà innebolire se non vuoi questo se non vuoi è scritto in corsivo il testo e se ciò fosse fa di piangere e non avere un delitto oltre al decilio debole diviene chi da sé si svena di Dio ecco questa espressione potrebbe dare il titolo a questa catechesi così poi chi se l'andrà venire indifferita perché perché qui è proprio un punto chiave debole di Dio diviene chi da sé si svena di Dio e come facciamo a svenarsi di Dio facilissimo il grande dissanguamento col peccato mortale poi che ne so le feriti non avete visto le le punzecchiature sui sui capillari e quella le diamo con i peccati veniali con la trascuratezza nella preghiera i sacramenti eccetera e svenati di Dio a Dio veramente domanda me la faccio a me la faccio a voi a chi sta sentendo ma Giuda ci pensa era convinto di quello che stesse dicendo in questa circostanza o stava facendo finta Dio si interviene perché lo sa quello che sarebbe un cesso se mi sentissi indebolito mi ucciderei cosa che è una bestemmia certo che lo è primo perché ti senti indebolito non è che ti senti indebolito tu ti vuoi indebolire e secondo che fai per impedire il decidio ti suicidi c'è un peccato mortale per impedirne un altro ma scherziamo la verità è che qui Giuda ci credeva sul cielo quello che stava dicendo secondo me se faccio davvero io non lo sarò mai attenzione a dire queste cose vedete ogni tanto cito un po' di detti della mia santa mamma buonanima qui devo citare il mio spero altrettanto santo perché ho tanti anni è passato da questa vita e vi ho fatto dire un autotreno di messe quindi papà mi diceva sempre ci sono due avverbi che noi uomini meno li siamo e meglio è e sono mai e sempre perché non ci appartengono noi non possiamo conoscere il futuro non possiamo proteggere il futuro non si può dire io non lo sarò mai se proprio vuoi dire qualcosa tu devi dire così per come percepisco e per come so adesso io non ti tradirei ma tienimi la mano sulla testa perché se mi dovesse impazzire o il diavolo dovesse farmi qualche brutto sgambetto o dovessi colpevolmente andarmi a svenare io lo potrei fare questo purtroppo dobbiamo dire è guai se non lo diciamo abbiamo appena festeggiato la festa di San Francesco tante volte lo raccontava questa storia San Francesco andava sempre dicendo in giro che lui era il più grande peccatore della terra e un giorno un fratellino diceva scusa un attimo padre ma cioè le bugie non si possono dire neanche a fin di bene e neanche per umiltà perché l'umiltà è verità scusa ma lasciamo perdere quello che tu dici o pensi di aver fatto durante l'adolescenza perché poi San Francesco di fatto ci è convertito giovanissimo ma io ti guardo tutti i giorni ma che peccati fai tu mica c'hai le donne mica sei adultero mica rubi mica ammazzi la gente mica non preghi mica non preghi cioè che peccati fai come fai a dire con verità questa cosa lui ti spose certo certo però io per grazia di Dio sono quello che sono perché se non ci fosse stata la grazia di Dio io farei tutto quello che tu dici è anche peggio e non lo diceva tanto per dire e ti dico anche un'altra cosa che se qualcun altro ha avuto la stessa grazia che ho avuto io farebbe molto meglio di me queste cose si possono sempre dire senza mancare la verità si possono dire perché ne siamo convinti non come sceneggiate facciamo un'altra sceneggiata facciamo eh e a Dio non piacciono le sceneggiate ok andiamo avanti che se no si abbiamo quasi finito che abbiamo anche quasi solito il tempo a disposizione dobbiamo andare verso la conclusione quindi poi torna da Giovanni che piange col capo sul tavolo Gesù e dice parla con ordine io pure soffro era il mio sangue ed il mio precursore non ho visto che i discepoli parte di essi costernati e furenti contro il traditore gli altri li hanno accompagnato Giovanni verso la sua prigione per essergli vicino nella morte ma non è ancora morto l'altra volta poteva fuggire cerca di confortare lo zerote che vuole molto bene a Giovanni secondo il principio del similes cum similibus non è ancora morto ma morirà risponde Giovanni si morirà interviene Gesù egli lo sa come io lo so nulla e nessuno lo salverà questa volta quando non so so che vivo non uscirà dalle mani di Erode si di Erode senti egli è andato verso quella gola da cui noi pure passiamo il ritorno in Galilea fra Lebale e Garizim perché gli fu detto dal traditore il messia è morente per un assalto di nemici ti vuole vedere per affidarti un segreto e lui è andato con il traditore e con qualche altro nell'ombra del vallone erano gli armati di Erode e lo hanno preso gli altri sono fuggiti portando la notizia di scevoli rimasti presso Ennon erano appena venuti quando giunsi con la madre e quello che è orribile è che era uno delle nostre città e che sono stati i farisei di Cafarnao alla testa del complotto per prenderlo erano stati da lui dicendo che tu eri stato loro ospite e che da lì partivi per la Giudea non sarebbe uscito dal suo rifugio altro che per te avete sentito che carogne un silenzio di tomba succede alla narrazione di Giovanni Gesù sembra svenato con gli occhi di un azzurro pupissimo e come appannati stacca pochino la mano ancora sulla spalla di Giovanni e la mano è scossa da un lieve tremito nessuno osa parlare Gesù rompe il silenzio andremo in Giudea ad altra via ma domani devo andare a Cafarnao al più presto riposate io salgo fra gli ulivi ho bisogno di essere solo ed esce senza aggiungere altro va certo a piangere murmura Giacomo ad Arfeo seguiamolo fratello dice Giuda Taddeo no lasciatelo piangere solo usciamo piano in ascolto temo insidere dappertutto risponde lo Zenote si andiamo noi pescatori sulla riva se qualcuno viene dal lago lo vedremo vuoi per gli ulivi è certo il suo solito posto presso il noce all'alba prepareremo le barche per andare presto quei serpenti eh l'ho detto io di ragazzo la madre è proprio al sicuro oh sì anche i pastori e i discepoli di Giovanni sono andati con lei Andrea non lo vedremo più il nostro Giovanni taci taci mi sembra il canto del cuculo uno precede l'altro per l'arca santa tacete se parlate ancora di sventura al maestro comincio da voi a farvi assaggiare il sapore del mio remo sulle reni urla Pietro inferocito voi dice poi a quelli che restano per gli olivi prendete dei bastoni dei grossi rami là nella legnaia ce ne sono e spargetevi armati il primo che si accosta a Gesù per nuoscerli sia morto discepoli discepoli bisogna essere cauti con i nuovi esclama Filippo il nuovo discepolo si sente ferito e chiede dubiti di me egli mi ha scelto e voluto non di te ma di quelli che sono scrivi a farisei e dei loro adoratori da lì verrà la rovina credetelo escono si spargono chi fra le barche chi fra gli olivi delle colline e tutto a termine e a termine anche per noi amici cari non c'è molto da aggiungere qui se non ecco vedere i luoghi di pescaggio dei traditori è sempre così io conosco purtroppo in questi venti anni ho visto delle storie allucinanti orribili il luogo dove il satana lo fa apposta secondo me primo perché il traditore è la persona di cui maggiormente si fida il tradito e secondo perché dopo una volta che accade non c'è dolore più grande da dare al tradito stesso perché il diavolo purtroppo è crudele dove andate a prendersi il traditore di Gesù non tra i discepoli eh no tra i discepoli ancora lo betta tra gli apostoli cioè proprio tra i più intimi purtroppo è sempre così le storie che ho visto che chiaramente non 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 racconto che ho visto che ho sentito sono proprio la fotografia e la conferma di queste cose non c'è difesa da questo eh non c'è difesa adesso qui dice discepoli discepoli perché non c'è difesa non c'è difesa quindi se il signore ci prepara da dare un calice di questo genere bisogna berserlo non c'è difesa ecco ci vediamo la prossima puntata se lo vuole che Dio vi benedica la santa vergine vi protegga la dentura Jesus et Maria non c'è difesa non c'è difesa